pure per te come per me 30 anni di merda vicino a tua madre chi? 30 ma allora non si poteva fare niente te potevi ribellare erano altri tempi e minacciavano sono stato un pessimo padre un pessimo marito tutto pessimo la colpa era loro lo sanno posatela questa dammi re no menavano quelli mamma mia come menavano con i preti venivano ammenamme dalla parocchia devi sposare 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 papà ma adesso non sarà più così no? queste cose saranno diverse saranno superate no? non ti illudere non è stato superato niente niente